La talassemia è un'anomalia nella produzione dell'emoglobina, una malattia a trasmissione genetica, particolarmente diffusa nelle aree dove in passato si è avuto un tasso elevato di case di malaria. Le forme di talassemia sono diverse e fra queste la talassemia major è sicuramente la più grave perché i pazienti sono costretti a ricorrere a trasfusioni di globuli rossi per tutta la vita, tant'è che si parla di beta-talassemia trasfusione dipendente. Trasfusioni che in passato portavano ad un pericoloso accumulo di ferro nel sangue, complicanza che negli anni è stata superata grazie alle terapie chelanti, migliorando così aspettativa e qualità di vita dei pazienti. Un ruolo importante lo ricopre il trapianto di midollo, ma solo per i pazienti al di sotto dei 14 anni e naturalmente in presenza di un donatore compatibile. Restano quindi ancora molti i bisogni insoddisfatti dei pazienti, ecco perché la ricerca scientifica è impegnata nella messa a punto di terapie innovative come la terapia genica, che costituisce un approccio curativo senza necessità di un donatore e senza rischi di rigetto. Gli studi Northstar e Northstar 2 hanno dimostrato come i pazienti trattati con terapia genica presentino livelli di emoglobina normali o quasi normali, tanto da non dover più ricorrere alle trasfusioni. Ecco perché l'EMA ha riconosciuto la terapia genica quale farmaco idoneo all'inclusione nel programma Priority Medicines per il trattamento della beta-talassemia. L'emoglobina è la proteina importante nel nostro organismo che porta l'ossigeno ai tessuti. Quando manca questa proteina emoglobina si ha un'anemia grave, è contenuta normalmente all'interno dei globuli rossi e può essere corretta questa mancanza solo grazie a trasfusioni di sangue. L'atalassemia è una condizione geneticamente determinata. Nella popolazione italiana circa il 5% della popolazione ha questa caratteristica che deriva dal fatto che c'era la malaria, quindi che aveva questa caratteristica resisteva di più alla malaria. Ma l'esempio è che la malaria è stata debellata. L'atalassemia fa parte della nostra costituzione genetica. Quindi il paziente talassemico, con la forma più grave, ci sono vari gradi di malattia, il paziente con la forma più grave, anche detta talassemia major, trasfusione dipendente, necessita di trasfusioni di sangue, di globuli rossi, ogni 20 giorni circa per poter vivere. E queste trasfusioni, fino a qualche decennio fa, prima che c'è la possibilità di avere sangue da trasfusione, quindi fino agli anni 50-60 del secolo scorso, i pazienti morivano in realtà nella prima decada di vita. Quando si è iniziato poi la terapia trasfusionale regolare, la prognosi della patologia ha cominciato a cambiare e i pazienti arrivavano più o meno a seconda o terza decada di vita. Però poi cosa succedeva? Quando noi diamo globulo rosso diamo anche ferro. Quando diamo ferro il nostro organismo non è in grado di eliminarlo. Il ferro all'interno del nostro organismo è altamente tossico e va piano piano a distruggere organi da parati importanti come fegato, cuore, pancreas, i pazienti morivano di sovraccarico di ferro, non più di anemia. Con l'avvento di terapia di chelazione, cioè di rimozione del ferro dagli anni 80-70-80, dapprima abbastanza complicata perché era un farmaco che doveva essere somministrato sotto cute, poi come attualmente sono farmaci che invece possono essere assunti per via orale, la prognosi della patologia è andata a cambiare e attualmente possiamo dire che è una prognosi aperta. Abbiamo pazienti che stanno superando i 50 anni di vita. Il trapianto di cellule staminali emopoietiche nell'ambito delle emoglobinopatie è ormai una procedura consolidata e già dai primi trapianti eseguiti nella trasmia nel 1981 la procedura si è sempre più consolidata nel tempo ed è ora diffusa sia a livello europeo ma anche al di fuori dell'Europa ed in tutto il mondo. Ormai diciamo le indicazioni al trapianto ce l'hanno tutti i pazienti con talassemia, diciamo mai o trasfusione dipendente, ma come diciamo ormai è stato ampiamente dimostrato, mano a mano che ci si allontana dall'età pediatrica e dall'avere e dalla compatibilità con il donatore ovviamente i rischi legati alla procedura aumentano. I dati che abbiamo presentato e rivisto quest'anno delle BMT, cioè del registro europeo del trapianto e sono dati del registro delle emoglobinopatie, hanno ulteriormente documentato su un numero vasto di pazienti più di circa 4.000 dall'anno 2000 al 2017 che la procedura ha dei buoni risultati, è diffusa, viene eseguita in tutto il mondo e ha ulteriormente sottolineato che i pazienti diciamo che possono avere un migliore outcome, un miglior risultato sono i pazienti pediatrici, in particolare quelli di età inferiore a 14 anni. Ovviamente come diciamo lo stesso ben consolidato, la procedura di trapianto è efficace ma comporta di per sé dei rischi, i rischi sono il rischio di rigetto ma soprattutto di una mortalità trapianto correllata. La cura dell'atalassemia ha fatto registrare dei progressi straordinariamente importanti sia nel trattamento convenzionale di tipo trasfusionale basato su un impiego di farmaci capace di rimuovere il ferro che altrimenti si accumulerebbe con ripetersi delle trasfusioni, sia in termini di approcci operativi curativi. Oggi con il trapianto di cellule staminali emopoietiche da un donatore compatibile riusciamo a guarire una percentuale straordinariamente elevata di pazienti pediatrici che soffrono di questa patologia. Abbiamo oggi a disposizione un'arma in più che promette di essere pura di grande, grandissimo interesse ed è rappresentata dalla terapia genica, soluzione ovviamente importante per quella fetta di pazienti assai consistente, almeno la metà che non identifica un donatore compatibile. Oppure per i pazienti adulti rispetto ai quali il trapianto di cellule staminali emopoietiche da un donatore rappresenterebbe una terapia sia efficace ma gravata da significativi rischi. Oggi i dati disponibili che provengono da studi già conclusi negli Stati Uniti o in corso di realizzazione in Europa e anche in Italia, in particolare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ci raccontano che questo approccio terapeutico è un'arma di trattamento potenzialmente curativo di grande prospettiva. Ha un profilo di sicurezza eccellente per quelli che sono i dati che oggi conosciamo è anche un profilo di efficacia assolutamente promettente. E oggi abbiamo la possibilità di accumulare ulteriori dati per poter pensare che nel giro di pochissimi mesi questo tipo di trattamento diventerà un'opzione terapeutica da considerare per tutti quei soggetti che siano stati ben trasfusi, ben chelati, che siano in ottime condizioni generali e che quindi possano beneficiare senza rischi degli approcci di terapia genica. Il percorso di concretizzazione di un approccio di terapia genica si basa su due elementi fondamentali. Il primo si fonda sulla raccolta delle cellule staminali emopoietiche, quelle che danno luogo a tutti gli elementi figurati del sangue di un paziente e la loro successiva manipolazione genetica in strutture accreditate allo scopo. Si inserisce in altri termini una coppia normale del gene che è difettiva in queste cellule che consente un'adeguata produzione di quella proteina che manca nel caso specifico della talassemia, la betaglobina. Una volta che questo processo si è compiuto e che sono stati effettuati tutti i test di sicurezza per un impiego scevero da rischi nei pazienti e tutto il percorso di fatto comporta un intervallo temporale di 11-12 settimane, il paziente viene sottoposto a un trattamento per distruggere le cellule ammalate che contiene nel proprio corpo, seguito poi dall'infusione delle cellule staminali geneticamente modificate e quindi corrette nel difetto responsabile della patologia. Le cellule staminali corrette si annidano poi a livello degli spazi midollari dove migrano, iniziano a proliferare, moltiplicarsi per dar luogo infine a un'adeguata produzione di emoglobina che dai dati oggi disponibili sappiamo essere sostenuta nel tempo. Oggi l'approccio di terapia genica è stato riservato a quei soggetti che non possedevano un donatore familiare compatibile proprio perché in una sorta di rispetto etico si è voluto garantire il trattamento curativo standard ai pazienti e riservare invece il trattamento sperimentale, cioè la terapia genica a coloro che questo donatore non possedevano. È chiaro che se con l'andare del tempo acquisiremo dati che vanno nella stessa direzione, cioè a dire dati assolutamente convincenti come efficacia e ovviamente di minor rischio per il paziente perché stiamo parlando di cellule staminali proprie, non è così irragionevole pensare che nel giro di qualche anno addirittura la terapia genica possa anche sostituire il trapianto allogenico da un donatore compatibile. Grazie a tutti.